ben trovati amici del gameplay sono tra 90 e questa volta un video diverso dal solito approfittando che è uscita l'espansione goblin vs nyomi ho ricominciato un po' a giochiare a earthstone che non toccavo da tanto tanto tempo non è che sono un grande giocatore diciamo uno è normale che si diverte con i giochi di carte e quindi ho comprato un po' di pacchetti ho presi 40 più di regalo adesso faremo un bello spacchettamento ho visto ben poco delle carte nuove quindi non è che le conosco quindi faremo un po' un video veloce se no ci metterai troppo a discutere ogni pacchetto quindi ci spieghiamo e andiamo ad aprire i pacchettone noi abbiamo qualche leggendaria che ci pareva ok ok oh un'epica grande buona buona l'arma preparativa non è un'epica hanno messo i robot vediamo ok andiamo al secondo pacchetto dobbiamo chiacchiere gioco della luce abbiamo un'esplosiva bellissima una rara gottorso robot che bene o mi ghiacciano le navi case no la pecorina esplosiva è fighissima dai una rara bene qualcosa di più oh un'altra pecorina esplosiva una leggendaria non è epica ecco il cazzo ahia l'acqua si è esploso bene lo sento che si è esploso bene dai mamma mia rara sempre il paladino molte carte per il paladino stiamo trovando eh o per il mago ho letto ho fatto in molte carte di quest'espansione che hanno molti effetti casuali oh questo è esploso proprio alla perfezione ecco il cavolo mamma mia che sfiga carica e provocazione rara rara vabbè dai per il mago sto leggendo eh dammi una epica una leggendaria qualcosa questa ah un atto di questo pirata ah non mi so pirata oh il fastidio bot bellissimo epica è un atto di quello ma dai paladino che non lo uso do a fare un mazzo paladino rara no rara subito tutte le classi ma la conosco questa eh dai qualcosa di meglio ah dai questo è esplodo me lo sento oh come dai mi ribotto scudato rara rara imp l'esplosione tutti questi effetti che casuali no vedi da 2 a 4 ma qualcosa di definito sono molto così queste situazioni dai un'altra epica un'altra epica su una leggendaria oddio comune dorata comune dorata freddo del vento rara una rara che già ce l'avevamo mi pare tantissime carte per il faladino è impressionante zampalunga perduto luce di naharu e dai niente lo stiocre c'è una abitazione c'è una abitazione non lo sento ah rara vabbè alfred il maggiordomo è una leggendale dai un uomo meccanico e dai carro ragno oh 2 rare dai portali stabili mette nella tua mano un servitore casuale cosa sempre sto casuali casuali spazio dai rara no rara sono zaccato è nata da questa perciò oh 2 rare oh direi dei boschi cerco ma non l'ho mai visto ah un bel ok ciao vai rara rara si non zaccato rara epica ma non vale più dai il trentesimo è quello che è fortunato vada vada e dai niente epica no bomba oscura rara rara un'altra una rara una rara e dai mamma mia ragazzi che è rara 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 l'illuminatrice un'altra Alfred, l'altro Alfred. Bombosura. EPICA! No. No, no. Oh no, questa cacca è carina, vedi la c'è. Dai! Dai dai dai! Olè! Niente, dai! EPICA! No, queste due EPICA, questa. RAAA! Dai, vabbè. Sensei di ferro. Vai! Niente. Ragazzi, con me. Alzate tutti le mani. Troverò qualcosa di EPICO. Dai, la leggendaria, qui. Dai. RAAA! Signora del dolore. Eh, mamma mia! Ragazzi, non avete alzato bene le mani, eh. Mi raccomando, adesso. Potete migliorare la vostra energia. Ooooooooh! Questa! Dav'è. Super caro Max! Che caro armato! Dai! EPICO! Che cavolo! RAAA! Questa è quella rara. Per lo sciamano! Hmm. Andiamo. Facchetta! Vai! EPICA! No, ragazzi. Non mi state... Dando energia. Un'altra signora del dolore. Che se bozza schiopà. Il fastidio botta è bellissimo, ragazzi. Io non lo so. Guardate che bel disegno che è. Ehm. Scusate la tosse, là. Siccome sapete che questo periodo... Un po' compensato. Vai! Ah, ragazzi. Mi è stata una porta sfiga, però, eh. Ne avrò più i pacchetti, comunque. Niente. Non è che il controllo non si vede un bassole dell'avversario. Dove rara? Beh, l'altra due è vero. Ah! Oh, ragazzi! Che non ci credevo in... Ehhh. Mi può fare sfiga. Dai, 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 dai... Dai, dai, dai. BAM! Anche questa non l'avevo mai vista. Uli, rara Ruicchiamo famiglio Vai, la ventunesima Vai, 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 vai Questa Maglio degli ogre Un'altra Un'altra, mamma mia che ci faccio Oh, mamma mia No, l'orzetto volevo vedere No Questa Epica, grande Per il mago Scusate, i servitori adiacenti non possono essere Persegni di magie o poteri eroi Questa è buona, questa mi piace Oh, legenda per lo stregone Malganis Eh, finalmente una leggendaria Mamma mia Eh, però è immune Proprio i demoni, il mazzo demoni Stregone Oh, sto pacchetto molto, molto fortunato Sciamano mezzatuna Non mi ha stacolato A mezzo che sta, antorpiamo se sta Guardate che faceva Ecco, stia probabilità però, mamma mia ragazzi Beh, per te c'è stato fortunato Aspetto il decimo allora Dai ragazzi, dai Un altro duvido dei boss Quante cavolo Un altro di quelli Che c'è stato a 50.000 Questa è bruttissima Allora c'è stato ecco Anodizzato Ma si può chiamare Anodizzato? Te l'avevo già vista questa perché Io devo parlare del nome Vai, 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 vai Ragazzi Retevi più Qua Niente Rara Ah, ce l'abbiamo Ma che c'è due non è mai male E dai voglio un'altra leggendaria O qualche epica Su, su Portatemi fortuna Oh, 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 oh Questa Mamma mia Rara Il cilvono, questa non ce l'avevamo Ma sei Si gioca a sei, cavolo Madonna Ah, questa è leggendaria Fate questa Stiamo vedendo dei mazzi di robot Olè Rara Dorata Sacerdote Quando viene curato Un personaggio Ci offrige un danno Un nemico casual Eh, questa è carina Molto, molto carina Quante magatta Per rimarsi Sacerdote Oh, due rare Mi pare che ce l'avevamo preso Sì Ed ecco la pecorina Uuuu Quanto mi piace Dai, dai, dai Prendami una carta Oh Oh, niente Oh, oh Rara Oh, non ce l'avevamo questa Per il cacciatore Vai Eh, che cazzo Epica Manco per niente Manco per niente Vai Epica, dai Meglio di niente Tutte le classi Tutte le classi Leggendario Un altro Due Malganis Due uguali Leggendario Madonna Madonna Vai Rara Rara di cacciatore Già ce l'avevamo Epica Mi pare di no Per il tutto Sta prendendo un sacco Di roba Tutti i personaggi Anche avversari Quindi Dai Due leggendari Due leggendari Uguali Due leggendari Un fortino leggendario Rara Rara Ottimo E' un altro Sicilo Ma mo' son troppi Pezzettini Di Cacchetta Ma che ci faccio Stiamo a arrivare Il test Ragazzi Credeteci Dai Tutti insieme Tutti insieme Sto qua Oh Lo sento Lo sento Da qui Rara Ok Per il guerriero Piega la miere Sempre per un mazzo robot guerriero Ho due rare Due uguali Allo stesso pacchetto Tre rare Ha detto La F Già ce l'avevamo Già ce l'avevamo Cavolo Dai Il test Ragazzi Oh Ho visto Spare bene Ma qua Guarda di cobalto Carina Ragazzi però Eh Guardate Aprile Non si è aperto Tu per il paladino Questa pure per il paladino Allora Eh Peccato Eh Non niente Dove essere Portonato Invece niente Di che Vabbè Stavamo I ultimi nove Tutti concentrati Tutti concentrati Niente da fare Stavamo che la messa Andata sul cazzo Oh Ragazzi No Rara Ce l'avevamo Dai Dimmi Che c'è Una leggendaria Un fulgoradic rotante Ho trovato poco poco Per il mago Purtroppo Mi piace molto il mago Ce l'abbiamo 300 Un cacciatore No Un altro riciclo Ma ricicla del culo Porto cane Dai Questa Veloce Questa Questa No Niente da fare Ragazzi Niente da fare Questa è rara Eh Brillava Vedete Ah Per il mago Ecco L'ho chiamato Ah Carina Però Sempre per un mazzo Roboto Vediamo che Vengono forti Questi mazzi Roboto Se Purtito Ma Vediamo Ma Non funziona Qualco Eh Questa è quella Da Quella è così Facile Da Vedere C'è Sta Cosa Che vuol D C'è Sta C'è 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 Sta Sta C'è Basta Venerle Così Per Vedere Se Erano Erichie Bello Non vederlo Bello Fa così Velocemente Gno Meccanico Lupo di mare Sbuffa Neve Per il mago Aspetta Ah Carina Epica Dai Tutte le classi Ce l'avevamo Già L'inutile Trasmutatore L'inutile Trasmutatore Questa è rara Ma non è stampare A vederlo Ma ce l'avevamo Tutte le classi Ah Più 4 Fintanto L'afferzario A 6 Più carte In mano Contro Mazzicoltro Rara Tutte le classi Ce l'avevamo Ce l'avevamo Classi Corrunturo Di morte Gli ultimi 3 pacchetti Eh Potrebbero essere O gli ultimi 3 pacchetti Che mi hanno regalato O gli ultimi 3 pacchetti Di quelli Che ho comprato io Dal punto di vista Dai ragazzi Dai 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 Però dai No dai Almeno Un ultimo E costo Ano Almeno L'ultima Leggendaria Dai Diversa Da quelle Che c'ho Rara La mia fortuna Proprio Dai Rara Rara